Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del Tg6. In apertura la cronaca con l'operazione antidroga portata a termine dai carabinieri di Popoli che hanno sgominato una organizzazione specializzata nel traffico e nello spaccio di stupefacenti fra le province di Pescara e L'Aquila. Vediamo insieme il servizio realizzato da Paolo Renzetti. Traffico di droga nelle province di Pescara, L'Aquila e Teramo ad infliggere un duro colpo ad una organizzazione composta da albanesi. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Popoli che hanno dato esecuzione a 12 misure cautelari eseguite all'alba di oggi. sequestrato 1,3 kg di stupefacente e 9.000 euro in contanti. Un'organizzazione molto complessa che siamo riusciti a disarticolare dopo un anno e mezzo di lavoro. Portato avanti sotto la direzione distrittuale antimafia dell'Aquila. È un'organizzazione molto fluida sul territorio, organizzata e articolata su tre province. La provincia di Pescara, la provincia dell'Aquila e in parte questa mattina abbiamo visto anche sulla provincia di Teramo. Un'organizzazione su forma di quadrium virato orizzontale, composta da quattro soggetti al vertice che avevano la particolarità di non incontrarsi mai tra di loro. Quindi di veicolare le informazioni attraverso il cosiddetto passaparola. Un incontro a coppie che avveniva soprattutto nella tarda serata e in ambienti lontani dai centri abitati quindi dove c'era realmente l'impossibilità di controllarli ma anche di avvicinarsi per un successivo monitoraggio. Comunque grazie proprio all'attività di intercettazione sia telefonica che ambientale siamo riusciti a censire uno a uno i vari personaggi, a stabilirne i ruoli all'interno dell'organizzazione, le basi logistiche, i canali di rifornimento e cosa particolare, un'organizzazione basata in parte anche su vincoli familiari. Proprio questi vincoli familiari che poi alla fine ci hanno permesso di comprendere le finalità del deraro provento di spaccio quindi sia per il riacquisto dello stupefacente ma anche per il mutuo soccorso tra i sodali. Andiamo avanti con la pagina della cronaca. La Compagnia di Chieti della Guardia di Finanza ha effettuato due sequestri. Il primo nel capoluogo in zona Tricalle riguarda un'area di 350 metri quadri destinata a verte pubblico sulla quale un'impresa edile ha depositato e sotterrato materiale di risulta delle demolizioni sassi e terra. Su un'altra area invece di circa 10.000 metri quadrati però questa volta nella zona San Donato a Guardia Grele adibita a discarica abusiva ed ubicata al confine del Parco Nazionale della Maiella c'erano decine di tonnellate di rifiuti molti dei quali pericolosi e tossici pneumatici, motori, macchinari, elettrodomestici, rottami, prodotti di risulta delle demolizioni di struttura in cemento armato oltre che autoveicoli e parti in plastica delle auto stesse. Quattro persone sono state denunciate per violazione delle norme in materia ambientale contenute nel decreto legislativo del 152 del 2006. Andiamo avanti ancora un'altra notizia che invece riguarda l'elicottero del 118 caduto a Campo Felice. La prefettura dell'Aquila ha comunicato che a causa delle avverse condizioni meteorologiche del maltempo che imperversa nella zona sono rinviate le operazioni di recupero che erano previste per oggi a partire dalle 12.30 delle parti del velivolo AW139 caduto il 24 gennaio 2017 in località Campo Felice nel comune di Lucoli. Nell'incidente morirono, ve lo ricordiamo, sei persone. Sarà pertanto regolare la circolazione stradale in località Campo Felice. Andiamo avanti con la pagina politica e iniziamo con una notizia che riguarda le primarie del Partito Democratico. Anche in Abruzzo si è chiusa la prima fase delle primarie del PD, quella delle convenzioni dei circoli. Una prima fase tutta interna al partito che ha visto la partecipazione del 60% degli iscritti. In Abruzzo e in tutte le province i risultati raggiunti dai tre candidati confermano il dato nazionale che pone Matteo Renzi al primo posto con il 63,50% dei voti. Si segue Andrea Orlando con il 23,54% e Michele Emiliano con il 12,94%. In questa prima fase delle primarie come Partito Democratico in Abruzzo i nostri iscritti hanno confermato il loro senso di comunità e quanto ha affermato Marco Rapino, segretario del PD, mentre Camillo D'Alessandro ha commentato questo congresso ha riaperto un dibattito vero e profondo dal quale è emerso lo straordinario risultato a favore di Renzi in Italia e in Abruzzo. Ora ci spostiamo a Montesilvano. Il gruppo consigliare hashtag Montesilvano2019 contesta la decisione della Giunta Maragno di destinare il centro sportivo Trisi a centro di accoglienza per migranti e rifugiati. Vediamo insieme il servizio. La richiesta di consiglio comunale straordinaria e urgente è già pronta. A sottoscriverla sono stati i consiglieri della lista di centrodestra hashtag Montesilvano2019 capitanata da Anthony Aliano. Il gruppo contesta la decisione della Giunta Maragno di impiegare il centro sportivo Trisi situato in zona Vestina come centro di accoglienza per i migranti e i rifugiati. Stessa sorte stabilita anche per l'immobile Exfea a ridosso di Corsumberto. Alla delibera del commissario dell'azienda speciale di Montesilvano è seguita quella della Giunta, spiegano i consiglieri comunali, il tutto senza concertazione. Hashtag Montesilvano2019 quindi richiama l'attenzione sul tema più generale dell'accoglienza che, dicono, ha già compromesso la vocazione turistica della città. Molti alberghi, infatti, hanno riconvertito le loro attività in funzione del ricovero dei migranti. Non solo, il progetto SPRAR costerà 70 mila euro alla cittadinanza montesilvanese? Costerà 70 mila euro, ma quello in termini di cassa diretti. In maniera indiretta costerà il degrado morale, materiale della città, un centro sportivo che non potrà più essere utilizzato dalla cittadinanza. Io ricordo che vi fanno uso bambini, donne, uomini, anche nelle ore notturne. Il lungomare di Montesilvano è già completamente martoriato da questa esigenza malcelata di far business con il sistema dei migranti. Adesso ci si aggiunge l'ente amministrativo, questo non è proprio consentibile. Noi ci opponiamo a tutti gli effetti, costi quel che costi. A supporto delle posizioni della lista civica comunale è intervenuto anche il capogruppo regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri. Cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe applicare, innanzitutto si tratta di politiche nazionali, quindi bisognerebbe cambiare governo dal mio punto di vista e applicare una diversa politica su questo fenomeno. Certamente, e non è pensabile, scaricare da parte dello Stato sui comuni, oltre a tutti i problemi che hanno di bilancio, di manutenzione sociale, anche l'onere di una gestione di un fenomeno così incontrollato. Nel caso specifico della città di Montesilvano, gli alberghi che in questo momento stanno ospitando, secondo me, in maniera non più legittima questi presunti profughi, devono essere immediatamente svuotati. Sempre per quanto riguarda la politica, questa mattina sono arrivate le dimissioni da vice sindaco dell'Aquila di Nicola Trifuoggi, ex procuratore capo di Pescara, che ha dichiarato che il mio è stato un mandato di servizio per la città. Fu chiamato dall'amministrazione in un momento delicato, per questo accettai senza conoscere all'epoca neanche come fosse composta la giunta comunale. Questo ha detto l'ex magistrato che poi ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco della città dell'Aquila nelle prossime elezioni amministrative. Sarà una coalizione, ha detto, di forze ed energie civiche con le mani libere dalla politica. Andiamo a Pescara ora, al via da questa sera, con la chiusura per 24 ore di via del circuito e lavori di manutenzione stradale che poi interesseranno altre aree e arterie della città. Vediamo. Vice sindaco Blasioli, oggi si parla in conferenza stampa dei lavori che riguarderanno le strade di Pescara, puntate molto sulla manutenzione stradale, ad iniziare da via del circuito, che questa sera starà chiusa per 24 ore per dei lavori urgenti. Sì, punteremo molto sulla manutenzione stradale, di qui ai prossimi due anni sarà la principale opera pubblica della città. Il comune di Pescara è un comune in predissesto, deve ragionare come una famiglia dove c'è un genitore che perde un posto di lavoro. Si fa prima la necessità e la necessità significa garantire strade belle ma soprattutto sicure. Cominciamo da via del circuito, questa sera alle 20.30, quindi lavoreremo spesso e volentieri di notte, chiuderà per una giornata, ma è una via che dopo il maltempo ha bisogno di manutenzione, soprattutto perché è la via di accesso di tanti genitori che portano i bimbi a scuola, delle persone che accedono a Ovest nella nostra città, ma soprattutto dai mezzi di primo soccorso. Da lì passeremo su altre strade, quindi via Firenze, via Nazario Sauro, via Caboto, via Marino da Caramanico, via Gioberti, via Parini, via De Marsi, via De Sabini e poi la Tiburtina. Sarà l'ultima grande opera, un chilometro e sei di strada, dalla rotonda quella famosa con l'aereo, fino a Via Lago di Campo Tosto. Ci saranno inevitabilmente però dei disagi per gli automobilisti? I disagi ci sono, è normale che siano così, però le opere vengono comunicate con largo anticipo, la cartellonistica stradale permetterà di scegliere percorsi alternativi e lavoreremo di notte, di più non potevamo fare. Adesso ci spostiamo a Teramo, sono circa mille i cittadini che aspettano da tre anni che l'amministrazione comunale attui la retrocessione dei terreni agricoli, un ITER che sembra essersi bloccato senza motivo e che obbliga comunque i proprietari che ne hanno fatto richiesta al pagamento annuale dell'Imu, una denuncia che parte dai banchi del Partito Democratico in Comune. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. All'anguire a Teramo non è solo la ricostruzione dopo sisma e maltempo, ma anche l'ITER di retrocessione per i terreni agricoli iniziata tre anni fa dal Comune e richiesta da quasi mille cittadini teramani. Un problema non di poco conto se si pensa che con il nuovo piano regolatore del 2008 a Teramo tanti proprietari di aree hanno visto cambiare la destinazione d'uso dei loro terreni da agricoli inedificabili con il conseguente pagamento dell'Imu alle casse comunali. Edificabilità spesso contestata e non voluta dagli stessi proprietari che sono comunque costretti a versare annualmente un'imposta altissima, a cui agitate dunque in Consiglio Comunale, da dove parte una denuncia della consigliera del PD Ilaria De Santis. Lei è stata contattata da tanti cittadini? Sì, io sono stata contattata da tantissimi cittadini che già nel 2014 avevano fatto le richieste per quanto riguarda la retrocessione dei terreni, cioè da edificabili in agricoli. E questo perché? Perché l'allora assessore Cozzi aveva presentato alla cittadinanza la possibilità di far retrocedere questi terreni che non venivano utilizzati come edificabili in agricoli e quindi aveva promesso in un certo senso che i cittadini, i proprietari terrieri non avrebbero pagato più l'Imu su quei terreni. Sono passati tre anni e non è stato fatto nulla secondo lei? Sono passati tre anni, gli uffici sono paralizzati dall'ottobre 2014 perché dobbiamo anche segnalare il fatto che all'epoca del 2014, addirittura per quante richieste c'erano state, il bando era stato anche prorogato tra un rimpasto di giunta, una crisi in maggioranza, una crisi di identità gli uffici comunque sono rimasti paralizzati, hanno seguito appunto questa paralisi dell'amministrazione di conseguenza l'unica cosa che in realtà si muove sono appunto i soldi dei cittadini che vanno a finire nella cassa comunale nonostante appunto abbiano comunque presentato le richieste, le istanze per far retrocedere i propri terreni. Dagli uffici dell'urbanistica di Teramo fanno sapere che le lungaggini sull'iter delle retrocessioni dei terreni agricoli sono dovute ai rilievi geologici che si stanno attuando. A questo punto però ci si chiede perché servono queste ulteriori indagini quando esiste un piano regolatore che le ha già diligentemente eseguite? Torniamo a Pescara adesso, al via lo scambio fra il liceo Marconi e le scuole russe di Togliattigrad nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. Gli studenti russi oggi hanno visitato a Pescara il Museo delle Genti d'Abruzzo. Vediamo. Oggi qui al Museo delle Genti c'è questa iniziativa tra l'Istituto Marconi, gli studenti della vostra scuola, professoressa, e una rappresentanza di studenti russi che sono venuti qui a Pescara. Nell'ambito di quale progetto? Allora noi abbiamo un progetto di scambio culturale molto importante perché la nostra scuola fa parte delle reti internazionali che si occupano proprio del collegamento in rete delle scuole che studiano nel nostro caso la lingua russa. Questo è un progetto molto particolare perché entra nel progetto dell'alternanza scuola-lavoro in cui i nostri ragazzi fanno da interprete ai russi e stanno presentando il museo. Faremo dei giri per l'Abruzzo dove tu sempre i ragazzi si alterneranno, e questo è molto importante, che presenteranno, faranno da guida per tutto l'Abruzzo proprio a questi ragazzi. È un momento di pratica molto importante perché loro si sentiranno responsabili e metteranno in pratica la lingua. Io volevo chiedere proprio alla professoressa russa come ha trovato il nostro paese e soprattutto la nostra regione e soprattutto i ragazzi come hanno trovato l'Abruzzo e Pescara. Mi trovo molto bene in Italia perché sono qua per l'ottava volta già e così posso dire che sono innamorata in Italia e così posso dare questo amore anche ai miei ragazzi. E siccome la nostra città si chiama Togliati, il nome del famoso comunista italiano, cerchiamo di diffondere la cultura e la lingua italiana nella nostra regione e nella nostra città. Ed ora come ogni lunedì un'ampia pagina dello sport. Iniziamo dalla Serie A e dalla partita di ieri pomeriggio all'Adriatico Cornacchia fra Pescara e Milan. Prova d'orgoglio del Delfino che ha costretto al pareggio il Milan. In vantaggio con una clamorosa topica del duo Paletta Donnarumma, il Pescara è stato riacciuffato da Pasalic. Pasalic inutile poi il forcing finale con l'ex di turno in campo Gianluca Lapadula che è comunque uscito tra gli applausi di tutto lo stadio. Il servizio della partita adesso e poi le dichiarazioni del tecnico Zeman. Un Pescara a cuore d'orgoglio ferma il Milan sul risultato di 1-1 e regala finalmente una domenica con tanti sorrisi ai suoi tifosi. Il pareggio serve a poco per la classifica ma la squadra biancazzurra si chiedeva di dimostrare di essere ancora viva e la risposta che tutti si aspettavano è puntualmente arrivata. Si fa invece dura per il Milan in Europa, il pareggio dell'Adriatico potrebbe costare davvero caro l'undici del presidente Berlusconi. Per la squadra Lombarda è un mezzo passo falso che potrebbe lasciare il segno visto che Atalanta e Lazio continuano ad allungare in classifica. Solo a tratti rossoneri sono riusciti a far vedere delle cose buone e soprattutto con il grande ex Gianluca Lapadula in campo quando però la squadra aveva già speso tanto. Complimenti vivi invece al Pescara che ha giocato una gara di dignità ed orgoglio come chiedeva Zdenek Zeman che ha avuto il merito di cambiare diversi componenti della squadra titolare mandando in campo anche Fiorillo per la prima volta in stagione e Campagnaro alla sua prima gara nel girone di ritorno. Rossoneri in campo con il 4-3-3, giovane e vigoroso senza neanche suso oltre ai noti lungo De Genti. Montella in difesa, poi preferisce Calabria-De Sciglio. Solo panchina per l'atteso ex Lapadula che avrà spazio nella ripresa. Nelle Pescara Zeman getta nella mischia Cullibali ma soprattutto fra i pali come detto il portiere Vincenzo Fiorillo. Si comincia in uno stadio adriatico stracolmo con quasi 21.000 spettatori. I rossoneri in avvio cercano subito di imporre il loro gioco. Alla terzo bacca servito in area tutto solo conclude di potenza mettendo però a lato. Ile Pescara con la velocità di Caprari e Benali cerca di mettere in difficoltà la più quotata formazione avversaria. Allo dodicesimo pallone indietro scriteriato di paletta per Donnarumma che cicca clamorosamente il pallone che si infila beffardamente in rete. Esplode la gioia dei tifosi bianca-azzurri sulle tribune che quasi non credono ai loro occhi mentre in panchina resta letteralmente impietrito Vincenzo Montella. La reazione del Milan è rabbiosa ma soprattutto confusa. I rossoneri fanno tanto possesso palla con Ile Pescara che soffre ma che al 29esimo con un tiro a cross di Memushai chiama Donnarumma ad una respinta con i pugni e con Baybec in agguato. Montella sprone i suoi dalla panchina ma il diavolo avanza a marce ridotte con Fiorillo quasi mai impegnato. Al trentasettesimo si vede in area bianca-azzurra Ocampos e spizzica di testa il pallone che finisce al lato di un soffio. Il finale di tempo vede però al quarantesimo il pareggio del Milan dopo un'azione di contropiede avviata da Delofeu e conclusa in maniera vincente da Pasavic al volo dopo la respinta miracolosa del portiere bianca-azzurro Fiorillo proprio su Delofeu. Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 di inizio gara. All'undicesimo fiammata di Sosa che dai 25 metri colpisce la parte superiore della traversa. Al tredicesimo arriva il momento di Lapadula nello stadio che lo consacrò lo scorso anno con 30 gol in Serie B capo cannoniere del torneo cadetto. Al quattordicesimo il Pescara va però ad un passo dal 2-1 con Bovo che su punizione manca di un soffio il bersaglio grosso. Al sedicesimo annullato un gol agli abruzzesi con Benali pizzicato in fuori gioco, decisione che lascia più di qualche dubbio. La gara resta equilibrata con batti e ribatti e portieri inoperosi fino al ventinovesimo quando ancora lo scatenato Benali chiama Donnarumma al salvataggio in calcio d'angolo. Al trentacinquesimo ecco Lapadula che arriva ad un soffio dal gol dell'ex con Fiorillo che gli dice no con i piedi. Il Milan stringe letteralmente da sedio l'aria bianca-azzura e al quarantesimo il Romagnoli di testa a mancare il 2-1 colpendo in pieno il palo. La gara non conosce soste con Benali che anche lui di testa va a sfiorare il 2-1. Si arriva così al recupero con Kucca che al quarantacinquesimo mette incredibilmente a lato e nel recupero è poi Campagnaro in scivolata a dire ancora no al suo ex compagno di squadra Gianluca Lapadula che al termine della partita va a salutare i tifosi bianca-azzurri. Trenta gol è una stagione memorabile, non si possono dimenticare. Io sono contento oggi per la prestazione, penso che anche la gente si è divertita perché ha visto una squadra che aveva la voglia di fare. Poi magari qualche errore tecnico ci ha impedito di fare meglio, però per me è importante che la squadra si impegni e che cerca di giocare insieme come squadra. Io ripeto, per me il risultato con Milan è importante perché è sempre una grossa squadra e in più penso che abbiamo proposto qualche cosa di quello che vorrei che si fa. E' normale che spero che la squadra si ricorda quello che ha fatto oggi e giocherà così anche con le squadre che non si chiamano Milan. Ma per noi era sempre aperta, io ripeto, finché non c'è la matematica che ci manda giù, dobbiamo giocare. Io di nuovo, ripeto, spero che la prestazione oggi, anche se con tante imperfezioni tecniche, ci dà coraggio e ci dà voglia di lottare fino alla fine. E ora scendiamo in Lega Pro. Il capitano del Teramo, Ivan Speranza, racconta al nostro microfono la gioia dopo aver segnato il pesantissimo gol partita contro la San Benedettese due giorni fa. Teramo che tornerà in campo dopo domani sera nel turno infrasettimanale sul campo del fanalino di coda Ancona. Sentiamo. Bellissima, già incredibile. Fare gol gli ultimi secondi comunque di una partita importantissima contro la San Benedettese. Sappiamo la rivalità che c'è con il Teramo, è una cosa bellissima. Raccontaci qualcosa. Abbiamo fatto questo schema su ultima palla che abbiamo provato in settimana, quindi è andato Masocco a battere questo calcio d'angolo. L'ha messa una palla bella forte, io ho anticipato un po' tutti e stavo un po' fuori dalla porta. Ho cercato di girarla il meglio possibile, l'ho incornata bene questa volta rispetto a quella del primo tempo, quindi è andata bene per fortuna. Alla fine siete andati anche verso la curva a salutare i ragazzi proprio della Est. Importante ricucire un rapporto con questi tifosi dopo quello che è successo nelle settimane scorse. Sì, ma noi eravamo andati anche sabato a Mantua per quelli che erano venuti, ovviamente siamo andati a ringraziare perché comunque fanno tanti chilometri per venirci a sostenerci. Sì, come hanno sempre fatto in tutte le partite, sono sempre calorosi, ci hanno sempre incoraggiato anche quando andavamo meno bene, quindi abbiamo cercato comunque di... Ci hanno anche esplonato magari, quindi cerchiamo di ricucire questo rapporto che magari non era nulla di chissà che, però noi abbiamo condannato solo il gesto che era stato fatto e punto. Sì, un'altra partita importante come ho detto prima, per noi è uno scontro diretto in cui dobbiamo andare lì con coraggio, con voglia di portare i tre punti, quello dobbiamo fare. Scendiamo ancora di categoria in Serie D per andare a vedere il derby di giornata, quello fra Avezzano e l'Aquila con gli aquilani che hanno espugnato il Dei Marsi e facendo proprio il derby. Il più forte delle difficoltà e delle assenze è la squadra di Battistini, resta quinta ed è a sei punti dalla vetta. Sconfitta con pesanti conseguenze in casa invece a Avezzano. Il patron Gianni Paris licenzia il DS Stefano De Angeli. Si invita alle dimissioni l'allenatore Pino Tortora, comunque non confermato per il prossimo anno. Il servizio è di Roberta Di Sante. 90 minuti di gara combattuta ma non spettacolare al termine dei quali un'aquila cinica e più propositiva riesce ad espugnare il Dei Marsi a far suo un derby tatticamente bloccato contro un Avezzano meno in palla del solito, il tutto condito da fischi e dichiarazioni al veleno nel post-gara. Deluso quanto cambia tutto, ho deciso di non far continuare la guida tecnica anche per la stagione prossima, quindi non si tratta oggi di un esonero, a meno che non ci siano le dimissioni del mister Tortora e di tutto lo staff, compreso la direzione tecnica di De Angelis. Sono orgoglioso, ripeto, della squadra. In quest'ambiente Asetti, in quest'ambiente di veleni, che fanno parte sicuramente del passato e che non ce l'ho portati io, era quasi impossibile riuscire a salvarsi. Io, il mio staff e Stefano De Angelis siamo riusciti a farlo. Se il presidente ha questa intenzione, in bocca al lupo per il prossimo anno. Sembra però aver approcciato meglio la formazione rosso-blu la partita, che al sedicesimo sblocca il risultato. Valenti se ne va sulla destra, vince un rimpallo e centra il palo alla sinistra di Lewandowski, ma sulla respinta. Il più veloce è Dictevicius a ribadire in rete per il vantaggio aquilano. La reazione dei padroni di casa sta tutta in un diagonale di Leto, che al ventiquattresimo si stampa sul palo, per poi terminare la sua corsa tra le braccia di Farroni. Non riesce ad imbastire una reazione importante la squadra di casa, che fatica a creare gioco e occasioni anche per il pressing alto dei ragazzi di Battistini. Nel finale di primo tempo si accendono gli animi in campo e sugli spalti, per via di un fallo sul Leto, che rimane a terra e viene strattonato, parapiglie in campo e droviglio di uomini intorno al direttore di gara Feliciani, che ammonisce il portiere avezzanese di Girolamo dalla panchina per proteste, per poi mandare tutti negli spogliatoi. La ripresa si apre con gli aquilani in avanti, al settimo Minincleri mette in mezzo, il pallone arriva a Dictevicius, la conclusione a botta sicura è la sfera che sfiora il palo. Passano due minuti e Ranelli ci prova dal limite, ma Lewandowski non si fa sorprendere. Al diciottesimo ancora Leto prova dalla distanza, ma Farroni si salva smanacciando in corner. Sul fronte opposto, Minincleri calcia di poco oltre la traversa. La manovra dell'Avezzano non riesce a produrre occasioni tali da impensierire Farroni, che al ventiquattresimo disinnesca la conclusione di Deramo. Al trentunesimo l'Aquila sfiora il raddoppio in contropiede con il neoentrato Peluso. L'attaccante, oggi a rientro dopo il periodo di stop, impegna Lewandowski al termine di una discesa. La respinta termina ancora sui piedi di Dictevicius, che questa volta però spedisce alto. E' il preludio al 2-0 Aquilano, che arriva al quarantesimo e porta proprio la firma di Peluso, che infila Besana e deposita il diagonale chirurgico all'angolino lontano, dove Lewandowski non può arrivare, suggellando il rientro con la gioia del gol. Può così iniziare la festa dei giocatori rosso-blu, che ringraziano ed esultano sotto il settore dove sono assiepati i circa 150 tifosi giunti dall'Aquila, che conserva il piazzamento play-off. Continua la rincorsa al secondo posto del San Nicolò. La squadra di Epifani si sbarazza facilmente della Iesina per 4-1 e resta due punti dal Matelica. Il servizio è di Ania Cantagalli. Ottavo risultato utile consecutivo per il San Nicolò, che batte la Iesina 4-1, allunga la striscia positiva e si proietta sempre più verso il miglior piazzamento in ottica play-off. La Iesina, bisognosa di punti dopo due sconfitte consecutive, parte con un buon piglio. Uno dei due ex della gara, Censori, impegna il dodicesimo direttamente da calcio d'angolo Ciotti, bravo a smanacciare sul fondo. Dagli sviluppi del successivo corner, Bontà mette fuori di testa da due passi. Il San Nicolò reagisce. Traini, altro ex della partita, si veste da rifinitore. Lascia Petronio in area, che mette un pallone sul secondo palo, sul quale Di Benedetto, in scivolata, non arriva di un soffio. L'episodio a favore per i padroni di casa arriva qualche minuto dopo, con protagonista ancora Di Benedetto, che viene atterrato in area, in maniera fallosa, secondo il direttore di gara. A trasformare il successivo calcio di rigore, ci pensa Bisegna, che porta in vantaggio il San Nicolò. La Iesina accusa il colpo, mentre i padroni di casa non trovano la via del raddoppio in più di un'occasione. Bisegna serve al bacio Di Benedetto, ma l'esterno lascia partire un tiro centrale, che Tavoni riesce a bloccare. Due minuti dopo Traini prova la girata rapida di destro, ma la Biola ci mette una pezza. La prima frazione si chiude con un'occasione per Massetti, che dagli sviluppi di un calcio di punizione spara alto sulla traversa. La ripresa inizia come meglio non si potrebbe per la squadra di Epifani. Basta infatti attendere quattro minuti per vedere il San Nicolò sviluppare una bella azione dalla sinistra, che porta Traini in girata a siglare la sua nona rete stagionale. La chiesina esce praticamente dal campo, mentre i biancazzurri controllano la gara fino a mandare i titoli di coda, quando ancora Traini firma la doppietta di giornata servito dalla destra da Massetti. Per la squadra di Epifani c'è poi solo da attendere il triplice fischio, tra qualche ripartenza sprecata ed una pressione praticamente innocua degli ospiti. Prima della fine c'è gloria anche per Bosi, che con un destro a giro firma il poker biancazzurri. La rete di Trudo a pochi istanti dal termine è buona solo per l'attaccante per siglare l'ottava rete stagionale. Per il San Nicolò domenica prossima è in programma la difficile trasferta in casa dell'Agnonese. È tutto per la prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per essere stati con noi, buona giornata. Grazie per essere stati con noi.